Ciao a tutti, sono Margherita del Circolo Love di Pisa. Oggi, per il progetto Leggere Forte, vi leggo Io vado Questa volta ho deciso Io vado Mamma, io vado D'accordo, ma mettiti il maglione che potrebbe fare freddo Papà, io vado Portati la torcia se dovessi tornare tardi Nonna, io vado Eccoti dei biscotti se ti venisse fame Nonno, io vado Mettiti il mio cappello che potrebbe esserci il sole Ehi, io vado Tieni, ti presto il mio libro se per caso ti annoi Scoiattolo, io vado Vuoi il mio ombrello? Io vado Prendi la mia radio così ti sentirai meno solo Grazie a tutti Ehi Clock Eccomi Sono arrivato Prendi la mia radio Prendi la mia radio Prendi la mia radio Prendi la mia radio